Il prossimo 27 luglio era in programma una partita amichevole tra Roma e Tolosa che si sarebbe dovuta giocare ad Ancona, parlo con il condizionale perché la prefettura di Ancona ha deciso di non concedere il nulla osta, l'amichevole è annullata, siamo arrivati al punto di annullare amichevoli perché c'è preoccupazione per i buoni rapporti che ci sono tra i tifosi anconetani e i napoletani, sono in ottimi rapporti e diciamo che la tifoseria napoletana viene considerata tra virgolette rivale della tifoseria romanista, quindi io rimango abbastanza perprezzo perché mi sembra strano che non si riesca a garantire lo svolgimento di una partita amichevole per motivi di ordine pubblico visto che si tratta solo di una gara di preparazione al campionato e non di una gara ufficiale dove comunque c'è qualcosa in palio e ci sarebbe anche magari motivo di un confronto un po' duro ma è una partita amichevole, a casa mia diciamo che è quasi una festa quindi rimango abbastanza perplesso.